Ciao a tutti ragazze e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo è un video in cui vi mostro gli ultimi prodotti beauty che ho ricevuto, alcuni per il mio compleanno e altri invece sono un pensierino che avevo fatto a mia sorella e che lei appunto inizialmente aveva accettato, poi hanno usato la profumazione, non le interessava particolarmente e quindi mi ha ridato i cosmetici a me. Comunque ecco non sono cose che ho acquistato io, eccetto va bene le cose per mia sorella. Allora parto con mostrarvi innanzitutto i prodotti, quelli che avevo comprato per mia sorella. Allora questa qui è l'edizione natalizia dell'anno scorso della Snow Queen della Pupa. C'era questa Trousse color sopolare con dentro questi due cosmetici, il latte doccia e il latte corpo, nelle confezioni da 50 ml, sia l'orquidea che ha questo ghiaccio gelsomino. Io ho preso Icy Gel Yasmin, quello è il gelsomino. E la confezione mi pare di averla pagata 6,95€ appunto in offerta. E questo era quello che aveva preso per mia sorella per fargli un pensierino all'acqua e sapone. E poi l'altra cosina che avevo preso, pardon, sempre per mia sorella, all'acqua e sapone, era questo crema per il viso della Delidea, quella alla mela al bambù. È una crema appunto per la pelle impura, questa si adatta sia al mio tipo di pelle che al suo. E solo appunto che lei ha già tante creme per il viso e poi non le ispirava particolarmente. E quindi all'inizio ho appunto anche qui accettato il regalo, poi il giorno dopo, assieme agli altri due cosmetici, ho detto usali te. Da una parte appunto mi dispiace di non essere riuscita a fargli un pensierino, ma dall'altra sono contenta di avere tre nuovi cosmetici nuovi per me. Poi, passiamo ai regali che ho ricevuto per il mio compleanno. Allora, ho ricevuto da una mia amica questa crema corpo anti-age della Nivea, della linea DNA Age, che io appunto è una linea che non avevo mai visto. e niente, sì, appunto la utilizzerò, non so quanto sia effettivamente l'effetto anti-age, però sì, una crema corpo la utilizzerò, insomma, come tale. Poi, un'altra coppina di Amici, invece, mi ha regalato due creme per il viso della Quovis, che è la linea di cosmetici del Discount Drinks. Qui mi ha regalato la linea anti-age, quella da notte e poi questa qui da giorno. Sempre questa coppia di Amici mi ha regalato anche lo strucante, quello adatto al trucco waterproof della Quovis, senza parabeni, con estratto di fiorilotto. Questo non l'avevo mai visto, quindi credo che sia un prodotto nuovo. Ed infine mi hanno regalato questa crema per il corpo e per il viso, ma io la utilizzerò solo sul corpo, alla profumazione di cocco, crema soft, sempre appunto della Quovis, e sono 250 ml di prodotto. Un'altra cosina che ho comprato io, l'acqua e sapone, è questa trousse verde della Emanuela Bifoli, pagata circa 3 euro, 3,45 euro, insomma, tra i 3 e i 4 euro, insomma, non tanto. Ce n'erano di vari formati e di vari colorazioni, siccome me ne serviva una, così pratica dove mettere i trucchi da borsetta, l'ho presa. Parlando velocemente del mio progetto Stop Shopping, sta andando bene, come sapete l'ho ripreso il 13 ottobre e termine il 30 novembre, eccetto appunto le cosine che ho preso per mia sorella, però dal progetto erano esclusi i regali per gli altri, sono stata, insomma, quindi eccetto i pensierini per mia sorella, che poi mi sono, insomma, ritornati a me, sono stata diligente, non sono andata fuori il progetto, anche se ovviamente qualche tentazione l'ho avuta, sono andata poche volte all'acqua e sapone, in due settimane sì e no ci sono stata appunto tre volte, e quando ho avuto la tentazione di fare acquisti per me, ho preso una volta un deodorante per auto, e l'altra volta appunto avevo preso questa trousse che mi serviva, e la volta dopo invece mi sono gratificata facendo un regalino a mia sorella, vabbè che poi mi è ritornato indietro, però non potevo sapere che mi sarebbe ritornato indietro. E dopo basta, che dire, dopo l'altra cosa, quindi oltre ad andare meno in negozi di cosmetici, passo anche meno tempo su YouTube a guardare video di cosmetici, e mi pare di avvertire anche meno la necessità di guardare, di essere sempre, diciamo, aggiornata, di vedere sempre quando escono tutti i video di prodotti terminati, come invece facevo una volta che appena era fine mese, andavo a cercare di vedere tutti i video dei prodotti terminati, eccetera, i video all, preferisco adesso magari uscire e passare meno tempo, insomma, su internet, cerco insomma di uscire di più e passare meno tempo su internet. Un'altra cosina invece che vi mostro è questa qui, che l'avete già vista in diversi video, ma volevo darvi un aggiornamento. Questi due deodoranti, quello agli agrumi e quello alla pesca, dell'Attingsons, che avevo comprato per utilizzarli come profumi, adesso li sto utilizzando invece come deodoranti, e mi sto trovando bene, non irritano la pelle, la lasciano anche deodorata a lungo, quindi potrebbe essere che li ricompro proprio come deodoranti, perché sono delicati. E dopo, un altro aggiornamento, il deodorante, quello d'Av al melograno, che anche lì l'avevo comprato come profumo, e poi lo utilizzavo per deodorare i piedi e scarpe, eccetera, anche quello lo sto utilizzando per la sua funzione, cioè quella del deodorante, in pratica come profumi tengo proprio solo ciò che è nato come profumo, quindi acqua profumata corpo, e profumi, eccetera. Bene, vi ho detto tutto, grazie a tutti della visione, ci vediamo al prossimo video.